Una raccolta di firme per salvare il drive-in, ovvero il cinema all'aperto della capitale, il primo costruito in Italia nel 1957 dalla Metro Golden Mayer. La petizione è stata lanciata in rete da pochi giorni su change.org e vola già verso quota mille firme. I promotori sono due romani che insieme ad altri residenti di Axe e Casal Palocco chiedono di realizzare in quell'area dove proprio in questi giorni si sono accese le ruspe per la costruzione di un edificio commerciale, un polo culturale. La raccolta è nata per vari motivi ed essenzialmente quello principale è proprio l'importanza del luogo stesso che comunque testimonia anche una fase della storia del cinema e della nostra storia e quindi non vorremmo che venisse cancellata. I promotori della raccolta firme hanno comunque le idee chiare su cosa potrebbe sorgere in quest'area. Ci può essere anche un'attenzione anche alle nuove tecnologie, alla modernità, cioè non vuol dire che per forza sarebbe dovuto, avremmo dovuto usarlo per forza come drive-in. I promotori della raccolta firme chiedono che lo schermo del vecchio drive-in non venga nascosto dalle edificazioni, semmai valorizzato all'interno di un progetto culturale per cui si chiede la collaborazione del ministro Franceschini a cui i residenti intendono scrivere e inviare la petizione non appena raggiunte le 5.000 firme. Diciamo che è nato prima il drive-in di tutta la zona edificata attorno, AXA Casa Appalocco nel 1957 e costruito dal metro Colvin Mayer, quindi una compagnia cinematografica di rilevanza mondiale. E quindi fa proprio dispiacere vedere come un pezzo di storia del cinema che ha rappresentato un cambiamento epocale, un nuovo modo di fruire il cinema, venga proprio lasciato in abbandono in questo modo, addirittura in una parte venga iniziata la edificazione dell'ennesimo costruzione commerciale. Abbiamo contattato l'architetto Massimo Paolucci che ha progettato l'opera e che immediatamente chiarisce che lo storico drive-in non verrà demolito. Poi spiega alcuni punti del progetto. L'intervento edilizio descrive e riguarda un'ampia operazione di recupero dell'area che attraverso la demolizione e ricostruzione delle cubature commerciali esistenti in stato di degrado ne prevede una ricostruzione e ricollocazione nella porzione del lotto più prossima alle aree del quartiere in cui si trovano altre attività commerciali. È inoltre previsto un arretramento dell'edificio verso via Senofane e lungo via Pindaro e la messa a dimora di nuove alberature e arbusti e la realizzazione di parcheggi. All'interno dell'area è inoltre previsto l'allestimento di una mostra permanente con le foto d'epoca del vecchio drive-in. Un progetto che tutto sommato non sembrerebbe cozzare con la realizzazione di un polo culturale per cui l'ultima parola però spetterà il ministro Franceschini a cui la petizione verrà inviata.